Non poteva farsi attendere la presa di posizione del Partito Democratico sulla sentenza del TAR che respinge il ricorso di ConfCommerce e di 40 commercianti abbiatensi contro la realizzazione del parco commerciale nell'area ex Siltal. Il nostro circolo si è sempre schierato contro i progetti di parco commerciale, esordisce Andrea Gillerio, segretario cittadino del PD, progetti verso i quali l'attuale amministrazione è sempre stata invece politicamente favorevole e ricordiamo che il loro primo atto è stato quello di bloccare la variante del PGT e nel corso di tutto l'Ital relativo a questa vicenda il Sindaco e l'Aggiunta hanno abdicato, secondo il Partito Democratico, al ruolo di difesa dell'interesse pubblico. Siamo in presenza di una totale rinuncia a gestire gli spazi e i bisogni della città, tutto questo testimoniato dall'assenza di qualsiasi progetto per il recupero delle aree dismesse nell'arco di tutto il mandato, in un'epoca in cui i grandi centri commerciali faticano a durare essendo circondati da tali centri a Vigevano, Vittuone e Rozzano, sostiene il Partito Democratico, queste opere non possono avere che due esiti. Nel breve periodo un colpo dura il tessuto economico locale già in difficoltà dopo due anni di pandemia, nel medio lungo periodo un disastro ambientale il cui conto sarà lasciato alle generazioni più giovani. A niente sono servite le migliaia di firme raccolte, sostiene Andrea Gillerio, le manifestazioni e le richieste in Consiglio Comunale. Il sindaco, secondo il segretario dei DEM, avrebbe scelto di non vedere, non sentire e non preoccuparsi del futuro. Una prossima amministrazione veramente attenta all'ambiente e realmente interessata alla promozione dello sviluppo locale non potrà prescindere da una revisione del PGT per evitare questo scempio. Per il momento esprimiamo massima solidarietà ai commercianti per la pesante sentenza e rinnoviamo il nostro impegno a costruire una visione alternativa, un chiaro riferimento a quello che sarà il programma del Partito Democratico e di tutto il centro-sinistra in vista delle elezioni comunali del 2022.